Acquistavano auto di lusso in leasing in Italia per poi consegnarle ad un clan di romeni che gestisce una ditta di esportazione di auto usate in quel di Viareggio. Da qui le vetture venivano portate in Germania immatricolate e successivamente rivendute anche in Romania. Le indagini della squadra mobile di Lucca in collaborazione con l'Apple Strada hanno portato a 16 ordinanzi di custodia cautelare in carcere per riciclaggio internazionale di veicoli di lusso. Le 32 persone denunciate invece per appropriazione in debita e simulazione di reato sono quasi tutti imprenditori edili della provincia di Caserta e della regione Puglia tra piantati in provincia di Lucca che acquistavano auto in leasing in Italia e poi le consegnavano al clan di rumeni. Entrando più nei dettagli gli italiani denunciati all'autorità giudiziaria si prestavano a cedere le autovetture oggetto di contratto di leasing denunciando falsamente la perdita di possesso e stimolando il furto come avvenuto posteriormente alla immatricolazione in Germania. L'indagine svolta dagli investigatori della squadra mobile della questura di Lucca e delle squadre di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale di Firenze della sezione di Lucca e della sottosezione di Viareggio ha permesso di scoprire che il gruppo criminale era specializzato nella ricettazione e nel riciclaggio all'estero di decine di autovetture di lusso con non profitti illeciti per alcuni milioni di euro. Con i proventi illeciti sarebbero stati acquistati e ristrutturati interi quartieri di Timisoara in Romania. L'indagine è stata seguita da Eurojust ovvero l'organismo europeo di coordinamento tra le autorità giudiziarie europee che ha tenuto apposite riunioni all'Aia dove hanno partecipato magistrati e poliziotti di Lucca e Firenze per l'Italia nonché delle procure delle polizie di Germania, Romania, Spagna e Belgio.